Eccoci con un'altra puntata di Rungi. Questo in realtà è un video vecchio, cioè vecchio, è di un paio di mesi fa ed era il primo, la sua prima esperienza in questo campo grande. Quel mio compagno mi ha dato una mano a salire, non ero ancora tanto abituato anche alla scaletta e tutto quindi mi sono fatta aiutare. Questo video è rimasto un po' indietro ma potrebbe essere interessante adesso da vedere dopo l'ultimo che avevo pubblicato, sempre sullo stesso campo e penso che si vedano abbastanza delle differenze. Adesso qui il passo l'ho tirato un po' veloce, ho tagliato qualche pezzo perché sennò c'è poco da vedere diciamo. Sì, si vede che è subito sereno, il campo l'aveva diciamo già visto ma da libero, non in sella. Il problema di questo campo è che è in fondo al maneggio, ci sono i paddock e tutti gli altri cavalli dall'altra parte quindi questa uscita in direzione casa è un po' così ma devo dire che la prima volta era troppo preso forse dal resto e non ci ha fatto più di tanto caso l'ultima volta ha tirato un po' verso l'uscita. Ecco, là in fondo c'è il gatto che tra l'altro nell'ultimo video gli ha fatto una paura terribile, qui invece non l'ha neanche guardato. Questa velocità normale dopo quella veloce sembra quasi rallentatore. Allora, qui tiro il sottopancia finché cammino. A volte mi chiedono ma perché non lo fai da ferma? E c'è un motivo ben preciso quando io tiro il sottopancia finché faccio camminare il cavallo, il cavallo non può gonfiarsi cioè non può prendere fiato e gonfiare la pancia. Magari io poi tiro se sto ferma, il cavallo si è gonfiato, poi riparto, il cavallo si sgonfia e il sottopancia di nuovo molle. Invece se lo faccio in movimento evito questo problema e ho diciamo una lunghezza reale che poi deve essere quella. Sottopancia va tirato gradualmente, prima di salire, cioè quando metto la sella lo chiudo e basta praticamente. Poi dopo un paio di minuti fisso la sella in maniera che non si muova quando poi muovo il cavallo, poi quando sono in campo ricontrollo e magari tiro un altro buco prima di salire. Dopo il passo prima del trotto tiro un altro buco avanti così. Non tiro subito tutto stretto dall'inizio. Anche qui vicino al casotto l'ha dei giudici, super sereno, non lo guarda neanche. In questo lui è molto coraggioso. Invece dopo vediamo come qui le barriere o gli elementi, quelli morbidi diciamo degli ostacoli, gli facevano ancora un certo, una certa impressione, cosa che adesso non è più così. Passo a reggini lunghe. Vediamo dopo invece al trotto e al galoppo come, cioè io vedo un'enorme differenza da questo video all'ultimo. Purtroppo è stato ancora male, come forse sapete, ha avuto una seconda colica. Lui è arrivato a fine luglio, ne ha fatta una inizio agosto, quindi dopo due settimane che era da me. E lì tra l'altro, ecco qui, no 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 no, lì non ci passo. No no no, ci vai tu. Invece poi vabbè, poi si fa convincere in maniera molto semplice, però aveva ancora qualche titubanza, mentre adesso molto più sereno. Dicevo, la prima colica eravamo un po' in panico perché non conoscendo il cavallo e tutto, poi si va sempre a pensare al peggio, insomma anche perché è durata due giorni, quindi dopo due giorni ho deciso di portarlo in clinica la prima volta, cosa assolutamente superflua perché poi non è servito e come è arrivato là stava bene. La clinica più vicina da Padova è o Bologna o Verona, quindi è stato un bel viaggio, una bella avventura, di notte, di domenica chiaramente. Adesso questa volta uguale, sempre di domenica, sempre sera. Sono passati due mesi dall'ultima volta, in mezzo è stato sempre bene, ha avuto lo stesso comportamento. Allora questa volta, conoscendo, cioè sapendo com'era andata l'altra volta, diciamo sono andata un po' meno in panico perché l'altra volta poi con relativamente poco la cosa si è risolta, quindi questa volta è bastato diciamo un intervento del veterinario lì per sicurezza la prima sera per visitarlo un attimo e fargli un piccolo antidolorifico, ma poi anche se anche questa volta siamo andati avanti due o tre giorni, ma in realtà dovrebbe essere un problema, diciamo di infiammazione a livello dello stomaco, non era costipato il cavallo, quindi niente di troppo grave, però bisogna un attimo capire il motivo per cui gli vengono questi dolori e quindi stiamo adesso iniziando una terapia e poi dovrà prendere un integratore e speriamo di risolvere in questo modo. Adesso sta di nuovo bene comunque. In questi giorni lo lascio un po' tranquillo, ma poi riprendiamo anche il lavoro. Anche il trotto qui non fa una piega. Essendo il campo qui molto più grande dell'altro, la prima volta non sapevo come avrebbe reagito, però è rimasto assolutamente con me, senza fare la minima fuga o partenza a caso e rimanendo sotto pieno controllo. Io qui sono rimasta sul largo perché volevo proprio simulare diciamo quasi l'uscita, non dico in passeggiata, ma il lavoro proprio sul largo, cioè sul dritto e quindi sono rimasta più fuori possibile, ma perché lui è rimasto con me e sereno. Se sentivo che ne so troppa agitazione o troppa velocità avrei optato più per circoli, non troppo stretti perché il cavallo ha già un equilibrio precario. Se vado a girarlo troppo stretto questo problema aumenta e il cavallo va ancora più in difficoltà. Quindi sempre dei compromessi, però avrei magari, mi sarei messa in un angolo, avrei lavorato su un circolo grande. Ma non ce n'è stato bisogno, cambio di mano, anche se sul largo diciamo c'è meno bisogno perché comunque sta abbastanza dritto. Vedete come il cavallo va via proprio completamente come fosse libero, col collo lungo in avanti, un po' in su. Qui lui era ancora abbastanza rigido a livello di collo schiena. Allora quello che succede davanti, il collo e la testa è sempre un risultato di quello che succede dietro. Con un cavallo tanto giovane che ancora non ha muscoli sulla schiena per tenere veramente il cavaliere sopra per un po', tutto quanto la situazione davanti non può essere poi quella finale che piace a noi, ma perché la schiena non è ancora pronta per una certa impostazione. Quindi io qui cerco di essere meno presente possibile con il mio peso, ovviamente trotto leggero, non si sta ancora seduti, se non nelle transizioni 2-3 tempi, ma giusto per un attimo partire sotto controllo, ma se no assolutamente trotto leggero e poi al galoppo trotto leggero, quindi sull'inforcatura, non troppo in avanti con il busto per non pesare ancora di più sulle spalle, che già il puledro è sulle spalle, ma comunque assoluta leggerezza sulla schiena, cioè non devo esserci quasi. Peso assolutamente centrale, non devo spostarmi troppo a sinistra e a destra con il mio busto perché un minimo spostamento mio lui lo sente già, non essendo ancora in equilibrio lui con me sopra, devo rendergli le cose più semplici possibili, possibile, facendo interventi minimi, cercando una leggerissima connessione con la sua bocca ma senza chiedergli assolutamente niente e poi piano piano saranno i miei aiuti in avanti, quelli diciamo che lavoreranno per primi e adesso già nelle semplicissime transizioni passo, trotto, passo così, metto già un pochettino alla prova ma anche adesso già al trotto, qualche volta chiedo una pseudo mezza fermata che ancora non è diciamo del tutto efficace ma inizio a mettere un po' di gamba vicino, a cercare la sua bocca, a vedere che tipo di reazione ha lui e se piano piano magari risponde un pochettino all'aiuto della mia gamba, soprattutto quella interna e soprattutto nelle girate, sul dritto la gamba interna è abbastanza pari l'azione delle due gambe e quindi per avere un primo effetto di aiuti diagonali gamba interna verso la mano esterna, la parte interna che invece si alleggerisce, devo lavorare su circoli molto grandi ancora chiaramente, però un minimo qui si inizia comunque già e si vede anche un po' in realtà dalla sua risposta perché comunque lui mastica, è sereno, a volte cede un pochettino con la nuca, quel tanto che gli viene da fare come risposta ai miei aiuti in avanti, nient'altro e così piano piano si viene a creare quello che poi prima è decontrazione, poi piano piano sempre lavorando un po' di più con anche le transizioni sia all'interno della stessa andatura che da un'andatura all'altra, poi porto sempre di più diciamo in mano il cavallo negli aiuti, davanti soprattutto ai miei aiuti di gamba e peso, devo sempre avere la sensazione di avere più cavallo davanti e di avere il cavallo pronto, questo anche significa avere il cavallo davanti a me, cioè se io chiedessi di avanzare lui deve rispondere, questo è avere il cavallo davanti, se invece io agisco e non succede niente, anzi il cavallo si impianta sulle spalle e alza la parte dietro, allora è l'opposto di quello che deve succedere e della sensazione che io devo avere anche nelle andature. Qui priorità assolute erano appunto vedere come si comporta bene, si è comportato bene le tre andature, allora a mano destra per lui è sempre semplice, adesso ci sarà il galoppo, a mano destra fa meno fatica, a mano sinistra l'inizio non partiva proprio a sinistra o proprio per sbaglio una volta su dieci ma era sempre partenza a destra anche a sinistra, anche se stavamo nel campo più piccolo, anche alla longia, cioè proprio anche senza il mio fastidio fra virgolette di peso del cavaliere sopra faceva molta fatica a partire a mano sinistra in maniera giusta, giusta come diciamo noi ecco. Qui un altro controllino a sottopancia prima del galoppo, lui inizialmente aveva una struttura proprio da cavallo da corsa quindi con muscoli in parti diverse da un cavallo diciamo da sella normale, fra virgolette normale e quindi molta spalla, muscoletti dietro la spalla, cioè una forma della spalla molto evoluta e anche della groppa e in mezzo niente, quindi aveva talmente poca forma della pancia che il sottopancia scivolava parecchio indietro se non stavo attenta e di conseguenza anche un po' la sella e questo anche muscoletto dietro alla spalla, anche questo spingeva un pochettino inevitabilmente la sella, cioè non stava proprio in perfetta posizione, adesso un po' meglio già, anzi adesso già molto meglio, la sella rimane molto più in posizione e le selle che ho sono comunque già, già ho cercato diciamo quelle con più spazio per la spalla ma a volte la struttura adesso qui vabbè, perdita di equilibrio totale dal trotto al galoppo, accelera un pochettino e poi cade il galoppo, questo è il passaggio diciamo abbastanza normale per puledri, non può ancora esserci una partenza super controllata in equilibrio, la priorità è che il cavallo risponda e parta al galoppo e poi che rimanga sotto controllo, comunque aspetto che sia lui a cadere nel galoppo e non lo spingo troppo perché devo stare attenta, cioè ho comunque un missile sotto, cioè volendo lui va e tanto anche, quindi attenzione, quando mi chiedono ma lui corre al galoppo, come va il galoppo? No, non è che corre, ma devo stare attenta io a non chiedergli cose che dopo lui potrebbe fraintendere, è chiaro che se io con il mio assetto lo spingo all'infinito in avanti lui potrebbe correre, devo stare attenta a fare già un passaggio dal trotto al galoppo morbido dove io faccio poco, cioè gli faccio capire che ma poi basta, poi aspetto che sia lui a partire al galoppo e a continuare e se c'è bisogno sostengo un attimo, se no no, se no faccio di nuovo come prima, il passeggero poco presente, meno presente possibile, devo cercare di essere qui uguale ma ovviamente parte rovescio, qui adesso per richiamarlo uso principalmente la voce, un pochettino i miei aiuti ma molto poco per non andare in contrasto con la sua bocca, cosa che non voglio assolutamente, voglio che lui si fidi della mia mano, che impari a conoscere la mia mano come qualcosa di, se non piacevole almeno non fastidioso ecco, tornato al trotto, ancora e stessa cosa, torno indietro e aspetto, quel puledro adesso è molto paziente e a volte anche lasciarlo, ecco qui è partito giusto quindi carezza e mantengo il galoppo adesso, gli faccio ovviamente capire quando è giusto, anche se lui adesso non è che non vuole ma è proprio non riuscire ancora, però comunque inizio a indicargli la via giusta, a volte la partenza quando sono così storti ancora, che da un lato fanno proprio fatica, invece di provare a fletterli dalla parte giusta per partire, è meglio, non dico contro fletterli ma lasciarli nel loro equilibrio e provare a partire quasi storti e rimanendo sempre con il nostro peso più centrale possibile, perché lo stesso discorso è prima, più io mi sposto più lo butto fuori dal suo già precario equilibrio, quindi rimango centrale, lo lascio un po' nella sua, dove lui sta diciamo in equilibrio comodo e provo a partire così e vedo cosa succede, comunque su una girata verso la direzione dove devo andare, quindi in teoria già quella dovrebbe un po' aiutarlo a partire dalla parte giusta, ma questo provare a flettere il cavallo dalla parte in questo caso sinistra, per partire a sinistra è peggio a volte, perché giro, poi tanti girano solo il collo non è che flettono il cavallo, anche perché non si riesce ancora a fletterli quando sono così rigidi e storti quindi è un girare il collo, il cavallo scappa via con la spalla esterna e a maggior ragione parte storto ok, quindi attenzione a non provare a fare troppo bravo e obiettivo raggiunto alle tre andature, perché di più non volevo, cioè questo è già per la prima volta su questo campo qui, non avevo idea di cosa avrebbe fatto, l'ho lasciato al 100% diciamo nel suo nella posizione in cui lui era a suo agio semplicemente cercando di inserirmi nel suo movimento, appunto dando meno fastidio possibile con la mia presenza e fine cercare appena appena la bocca, quello sì ma se avete visto l'ultimo video avrete notato come adesso il cavallo risponde già molto di più alla mia gamba soprattutto e come conseguenza davanti assume una posizione completamente diversa inizia adesso ad usare molto di più la schiena sia al trotto che al galoppo e anche ad avere una decontrazione più reale cioè qui è rilassato perché è tranquillo ma ha dei momenti in cui scende un pochettino ma si distrae subito, torna su cioè non è al 100% diciamo fluido nei suoi movimenti e soprattutto ancora poco reattivo qui alla mia gamba quasi zero dal punto di vista non che non avanza, quello sì però non aveva ancora capito diciamo l'aiuto della gamba come lo intendiamo noi nel senso che poi deve andare ad alzare l'addome, la schiena il posteriore viene portato più sotto e tutto quanto si crea questa tensione superiore positiva di cui parlo sempre decontrazione, il cavallo si distende ma si distende realmente cioè usando bene la schiena con una schiena elastica che va su e giù a ritmo dell'andatura questo si sta piano piano creando adesso lì non c'era ancora ma infatti non doveva ancora esserci sarà stata non so la sesta settima volta che lo montavo in tutto quindi super bene